Filippo Brandolini si è aperta la consultazione sulla proposta di programma nazionale per la gestione dei rifiuti, una misura tanto attesa, parte del pacchetto di riforme disegnato dal piano nazionale di ripresa e residenza. Qual è la prima valutazione di Utilitalia? Da una primissima valutazione ci esprimiamo positivamente per una serie di ragioni, ne cito qui alcune. Innanzitutto non ci si è limitati a costruire il programma solo sulla base dei dati di produzione dei rifiuti, ma anche su un'analisi dei flussi dei rifiuti, quindi i viaggi che i rifiuti fanno all'interno del nostro paese e talvolta non solo all'interno del nostro paese, per arrivare alla destinazione finale. Non ci si è limitati nel quadro conoscitivo ai soli rifiuti urbani, quindi si è fatto una valutazione e un'analisi anche della produzione dei rifiuti speciali e questo ritengo che sia molto importante perché come noi abbiamo sempre sostenuto come sistema di imprese che si occupano dei rifiuti, il ragionare congiuntamente su urbani e su rifiuti speciali può consentire anche di perseguire delle sinergie e dell'economia di scala, favorire uno sviluppo impiantistico più adeguato al fabbisogno del paese senza confini che sono meramente amministrativi, i rifiuti sono urbani e speciali, ma talvolta hanno caratteristiche dal punto di vista chimico e fisico del tutto confrontabili. Si è introdotto l'utilizzo dell'analisi di LCA, l'analisi del ciclo di vita, strumento molto importante per valutare, così come abbiamo detto da questo programma, il rendimento ambientale degli attuali sistemi di gestione e per indirizzare le scelte future, per esempio in maniera molto chiara si scrive già nelle prime pagine che da quest'analisi di LCA, che si è basata come dicevo prima sui sistemi di gestione attualmente in essere, emerge per esempio che per il trattamento della frazione organica risulta molto più conveniente sotto il profilo ambientale un impianto che integri la digestione anaerobica con la fase di compostaggio piuttosto che la fase di solo compostaggio, ovvero un'altra valutazione importante, si è accertato che più che il pretrattamento in impianti di trattamento meccanico biologico e di trattamento meccanico per successivamente avviare i rifiuti al trattamento di recupero energetico o alle discariche, conviene andare direttamente agli impianti di recupero energetico. Quindi valutazioni importanti che in qualche modo consentono di avere un programma che sia basato sulle conoscenze tecniche, sulle conoscenze scientifiche, sull'impianto normativo esistente sia a livello europeo che a livello nazionale che stabilisce degli obiettivi, stabilisce dei criteri, stabilisce una generale dei rifiuti e in quanto tali devono essere rispettati. Ecco, nel programma si individuano i rifiuti organici da raccolta differenziata e gli scarti non riciclabili compresi quelli che derivano dal trattamento delle raccolte differenziate come le due frazioni più critiche, cosa che poi tra l'altro Utilitalia sottolinea da tempo. Le risposte che il programma dà a queste due gestioni così problematiche sono sufficienti a risolvere il problema. Innanzitutto, come già dicevo prima, ci sono delle considerazioni importanti che sono emerse da questo studio di LCA, ovvero quelle che sono le soluzioni tecnologiche, impiantistiche più idonee per la gestione di questi rifiuti. In secondo luogo si afferma, e questo lo si legge in parecchi passaggi del documento, si afferma la necessità di avere una gestione dei rifiuti prossima al luogo di produzione. Quindi gli impianti devono essere equamente, in maniera equilibrata, distribuita sul territorio nazionale e questo è un altro aspetto fondamentale. Resta il fatto, e questo è forse l'elemento ancora da meglio comprendere da indagare, o forse l'elemento di debolezza di questo programma, che questo programma fornisce degli indirizzi, delle indicazioni alle regioni, ma sono le regioni che poi hanno il compito di definire le pianificazioni e quindi definire come intendono raggiungere l'autosufficienza impiantistica nel trattamento tanto dei rifiuti indifferenziati quanto dei rifiuti organici. Il programma nazionale sicuramente rappresenta un importante impulso, un importante suggerimento, ma ovviamente c'è un pezzo di lavoro importante, di competenza, che cade in capo alle regioni. Peraltro, sottolineo, noi come Utilitalia avevamo suggerito, nel momento in cui è stata recepita la direttiva europea, che ha introdotto il programma nazionale nell'ambito proprio del decreto di ricepimento, avevamo suggerito che il programma nazionale potesse avere maggiore valore nei confronti delle regioni o potesse consegnare al governo centrale poteri sostitutivi, così non è stato, quindi questo rischia di essere un elemento di debolezza del programma nazionale stesso. Vediamo però nelle prossime settimane, anche con tutti gli approfondimenti del caso, se qualche strumento in più di cogenza il programma nazionale lo dispone nei confronti delle regioni. A proposito della costruzione degli impianti e quindi della localizzazione dei siti che potrebbero doverli ospitare, il programma ipotizza un meccanismo ben preciso, cioè la costruzione di impianti per rifiuti organici che deve essere strettamente mirata a raggiungere l'autosufficienza su base regionale, mentre invece per gli altri impianti, vi compreso il recupero dei rifiuti energetico, dei rifiuti indifferenziati, si parla di accordi di macroarea, quindi un'area un po' più vasta quella per raggiungere l'autosufficienza. È un meccanismo che può funzionare, secondo voi? Ma innanzitutto, come sottolineavo prima, dobbiamo vedere come reagiranno le regioni a queste indicazioni, perché poi alla fine anche l'individuazione delle macroregioni per quanto riguarda gli impianti di recupero energetico è lasciata all'iniziativa, alla volontà delle regioni stesse, che tra loro peraltro si devono accordare, quindi una regione dovrebbe in teoria decidere di collocare nella propria regione un determinato impianto che serve anche un'altra regione. Vedremo come si sviluppa questo. Per quanto riguarda gli impianti di recupero energetico, ritengo che sia comunque una misura, un'indicazione importante, perché come noi anche abbiamo evidenziato in più occasioni, si tratta di impianti che per lavorare su un'economia di scala, per ottimizzare investimenti importanti, devono avere anche dimensioni che vadano al di là di quelli che sono gli ambiti ottimali. Quindi l'individuazione, l'indicazione delle macroregioni è una rilettura in termini aggiornati di quello che è il principio di prossimità. I rifiuti devono essere sempre trattati in impianti prossimi al luogo di produzione, ma con impianti che siano impianti industriali di dimensioni che consentono di perseguire economie di scala, efficienza economica, efficienza industriale. Più complesso è il ragionamento sull'impianti di trattamento dell'organico, per i quali l'indicazione del programma nazionale è che le regioni devono essere autosufficienti. Questo indirizzo sicuramente è comprensibile sotto il profilo delle motivazioni, perché stiamo parlando di rifiuti che in ogni regione sono sicuramente prodotti con volumi importanti e quindi sicuramente ogni regione, probabilmente anche le più piccole, possono dotarsi di un proprio sistema impiantistico autonomo, fermo restando la necessità di impianti comunque industriali. C'è anche da sottolineare che trattandosi di rifiuti che vanno a recupero occorre comprendere come questa indicazione del programma nazionale sia compatibile con le norme che prevedono per i rifiuti a recupero la possibilità di un mercato che vada al di là del principio di prossimità. Questo vale tanto per i rifiuti a riciclo cosiddetti secchi carta vetroplastica così come per il rifiuto organico. Quindi ne comprendiamo le motivazioni, va bene costruito un quadro che sia anche armonizzato con altri aspetti normativi che riguardano più la concorrenza e il mercato e meno gli obiettivi ambientali. Quindi è possibile anche che sia un indirizzo che in qualche modo possa essere rivalutato nel corso del tempo e possa significare come un incentivo in questa prima fase alle regioni a dotarsi di un proprio sistema impiantistico per poi andare a rivedere più avanti anche quel fabbisogno residuale se va perseguito all'interno delle singole regioni o se invece tramite collaborazioni tra regioni. Quindi su questo specifico aspetto sospenderei il giudizio e vediamo anche nel corso della discussione sul programma nazionale come evolverà la situazione e se ci saranno manifestate anche altre posizioni in ordine a questo specifico aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.